Inauguriamo la biblioteca comunale di Asuni, un servizio che mancava, un servizio importantissimo. Noi riteniamo che sia un luogo ovviamente di arricchimento culturale, ma non solo per la possibilità di consultare dei testi, di portarli a casa, di leggere e arricchire il proprio vocabolario, ma perché è anche un punto di confronto, un punto dove si scambiano opinioni, pareri, quindi ovviamente sappiamo che il confronto e lo scambio fa crescere e noi ci auguriamo che faccia crescere i nostri compaesani. La inauguriamo con Jack Hirschman perché un grande, un grandissimo, vorrei legare il suo essere grande al poter rendere grande una biblioteca. Noi abbiamo creato la biblioteca grazie a una splendida iniziativa che è stata quella di rendere noto tramite i social network e la possibilità di donare un libro alla biblioteca comunale di Asuni. Non abbiamo ricevuto uno, due, tre libri, ma abbiamo ricevuto migliaia di libri, quindi abbiamo capito che con la volontà di un singolo possiamo fare grandi cose. E allora l'inaugurazione è andata con una grande persona che ha portato a una piccola realtà un grande potere come quello della cultura della biblioteca.